ben trovati a questo settimo video tutorial sulla compilazione della domanda del regolatore provinciale d'istituto di supplenza per gli anni scolastici 2024 2025 e 2025 2026 in questo video tutorial vediamo come compilare i titoli di preferenza andando alla sezione titoli di preferenza e facendo inserisci troviamo dalla lettera a fino alla lettera n tutti in ordine da di lettera i titoli di preferenza che consentono a parità di punteggio di precedere gli aspiranti concorrenti per cui sono delle dichiarazioni di preferenza in base a certi titoli posseduti quelle più diffuse sono sicuramente la d e la e la d e quella di aver prestato l'odevole servizio e per l'odevole servizio significa servizio senza diciamo avere alcuna sanzione disciplinare per non meno di un anno nell'amministrazione che ha dato ha indetto il concorso laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza e ragione del servizio prestato il candidato non dovrà indicare alcun dato dunque chi ha un anno di almeno un anno di servizio in nella scuola e dunque come docente può e come comunque come personale scolastico perché l'amministrazione comprende tutte le figure del personale scolastico può indicare questa lettera di come preferenza altra preferenza può essere importante la lettera e che indica i figli a carico e si possono inserire in questa casella e il numero di figli a carico chiaramente ci sono anche altri preferenze molto importanti come quella delle invalidità civile che troviamo alla lettera f la lettera f altro importante è l'invalido o mutilato civile che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera b nella lettera b c'era l'invalidità civile ma per servizio nel settore pubblico invece nella lettera f l'invalidità civile per esempio che può essere indicata dall'inps e con avuta in un certo in una certa data con un certo numero di atto di verbale della commissione medica che ha valutato l'invalidità ecco queste sono alcune delle preferenze che sono diciamo di fondamentale importanza che una volta indicate si possono inserire facendo inserisci in basso facendo questo inserisci e inserendo così chiaramente nella lettera f bisognava inserire tutti i dati che non abbiamo inserito per cui il sistema ci dà errore si toglie questa indicazione e si fa l'inserisci ma chiaramente adesso è possibile inserire tranquillamente le preferenze di cui sia titolo speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori per una compilazione della domanda e vi seguiteci ancora sicuramente perché vi informeremo sulle novità di queste di questa procedura importantissima un saluto a tutti grazie a tutti